Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabio Fattiretti di Società Unimotion, ci occupiamo di robotica in particolare le robotiche di nuova generazione, che vedete dietro qua, che sono dei robot collaborativi, magari vi faccio alcun decenni adesso, così come robotica leggera e robotiche di semplice utilizzo. Cercare di abbattere la fungeria, che adesso è stata un buona varia, l'ingresso della robotica, la ricomplazione, degli investimenti alti, della necessità di avere delle infrastrutture, sia dettagli che tecniche, come per l'installazione, in cui ho la necessità di chiedere il servizio, di fare qualcosa, quindi di fare una soluzione pubblica. Un po' adesso il lavoro spettiva cambia, perché i robot possono essere installati a banco, come vedete qui davanti, quindi su una struttura già esistente sul tavolo potete connettere un robot e permettergli di fare quel salto di automazione che, diciamo, non è solo adatto agli ostacoli. Faccio degli esempi. Se voglio automatizzare anche con un'applicazione semplice, ad oggi magari si pensava di utilizzare delle obbligazioni lineari, dei pistoni pneumatici, o comunque di farlo un'attrezzatura, di crearla, di progettarla, un oggetto del genere con alta flessibilità e facilità di programmazione è possibile installarlo e provare a vedere se quella idea di automazione che avevo in testa è fattibile, ha dei vantaggi. e questo mi permette di fare quello che chiama anche il piano governativo tecnologia abilitante. Cosa vuol dire? Io utilizzo il robot per fare un'automazione e grazie a questa automazione posso rilevare dei dati, per questo che ho la slide Industria 4.0 che poi mi serviranno per fare le analisi statistiche che utilizzano l'industria 4.0 o il fatto di poter avere la connettività esterna, avere la possibilità di avere sotto controllo a produzione, reagire a possibili differenze di tipologie di prodotti che devo richiedere, il fatto che si pensa che in futuro i prodotti produttivi arriveranno addirittura a tendere un pezzo diverso dall'altro e quindi queste esigenze che si pensa che arrivano dal mercato verranno risolte grazie a un'automazione semplice e flessibile. Questo è un po' il capello dritto. Oggi quello su cui ci concentreremo sono proprio due di questi aspetti, come utilizzare il robot per reagire nel cambio di produzione, come utilizzare il robot, e si sta parlando di robot generico, non sto parlando di una marca, non sto parlando di un tipo, ma sto parlando di un concetto, e come utilizzare il robot per generare il dato ed eventualmente analizzarlo. L'analisi del dato poi la lascerò a Luca Antiga di Orobics che con la sua azienda sfrutta il dato utilizzando degli strati di intelligenza artificiali per capire l'andamento e reagire a delle possibili informazioni del dato, poi lui sicuramente ne spiegherà bene. Allora, questi qui sono un po' i flash che vi voglio dare su un concetto appunto di come reagire il cambio di produzione. L'unico è questo, io l'ho chiamato logistica ristrutturata il cui lo chiamano organizzazione a matrice. Cosa vuol dire? Fino ad oggi abbiamo visto delle linee di produzione, magari linee di prodotte, gli stessi macchinari che fanno la produzione, prodotti su più linee e un prodotto che fluisce sulla linea. Ma se un domani io avrò un prodotto, diciamo, lotti produttivi molto bassi, potrebbe essere che non ho necessità di fluire su tutte le macchine della media, ma ho necessità magari di saltare degli step. Ecco che qui l'utilizzo di, in questo caso se li vogliamo chiamare robot, ma sono come dei cannelli intelligenti che portano la parte da una matrice di tipologie di macchine ad un'altra a saltare dei passaggi, mi permette di essere più reattivo alla richiesta di cambiamento e anche più efficace sicuramente. questo si avvicina molto al concetto di lean technology che va molto adesso, in cui è la cella che richiede il materiale, il concetto del pull. Io sto producendo, sono un operatore, vedo che mi mancano i miei pezzi, prendo un bottone e i pezzi mi arrivano e vengono portati da fronte. E quindi c'è un bel unione tra concetti di lean manufacturing e concetti di logistica. oppure utilizzare, come vi stavo dicendo adesso, il robot non più come quella macchina che deve fare tanti pezzi velocissimamente, ma quasi come sia un nuovo strumento di lavoro. Invece di avere l'avvitatore, utilizzare il robot per aiutare l'operatore. Questo è anche un po' il cambio di paradigma. Quindi deve avere spesso un robot a fianco dell'operatore. Un altro concetto di questa robot di nuova generazione è quello di utilizzarlo per aiutare l'operatore, non per sostituirlo. Con questi concetti, utilizzare il robot leggero che vi permette di, come dicevo prima, facciamo la prova qui, per questa automazione mi dà un vantaggio. Oppure ho un batch produttivo per cui il robot mi può servire per sei mesi, ma poi so che fra sei mesi magari quel cliente non mi consumi da più il lavoro. e quindi io posso prendere il robot e spostarlo in un altro ambiente. Adesso è venuto per fare la simbolatura, ma se invece lo sposto, io lo metto a prendere le scatole di condizioni. Quindi poter facilitare anche l'investimento in un modo fluidisciplinare. così come avere una possibilità di interazione con la persona, con nuove metodologie di linguaggio, possiamo così dire. il robot, questi tipi di robot possono essere equipaggiati con accessori. E non si parla solo di accessori fisici, ma si parla anche di software. In questo caso l'accessore che abbiamo creato è un dispositivo che consente di dialogare con l'operatore tramite segnali visivi e acustici. Quindi come vedete in questa prima situazione del filmato, poi mi fermo perché è un po' tecnico, il robot mi comunica nelle varie fasi se ha raggiunto due obiettini. In questo caso ho preso il pezzo, mi si sta muovendo verso quindi con le luci, mi comunica che sta venendo verso di me qui duro per prestare attenzione, mi chiede di fare delle verifiche per vedere se il pezzo è corretto quello che andrà a montare, me lo monta e mi comunica se l'ha montato correttamente o no, utilizzando segnali acustici e segnali visivi. Noi qui ripeto andiamo un po' molto nel tecnico su come si va ad installare, su tutte le micro funzionalità del sistema. Altro punto importante è quello della riprogrammabilità e della facilità di programmazione. Abbiamo detto che l'ambiente è facilmente variabile, allora vuol dire che dovrò riprogrammare spesso il robot. Se devo riprogrammare spesso il robot con un linguaggio tipo Pascal, perché di questo si sta parlando dei robot tradizionali, molto probabilmente ho bisogno di un po' di esperienza, ho bisogno di un esperto, ho bisogno di una risorsa. In questo caso se io vado ad utilizzare una tecnologia simile all'approccio HTML, quindi web, sicuramente chiunque può farne anche quelle piccole modifiche che consentono di reagire alla variabilità della produzione. Questo è utilizzato sia nei robot antropomorfi sia anche nei carrellini che si scorso. Altro concetto è quello dell'adattività. Cosa vuol dire? Siccome il pezzo può essere diverso, il concetto è sempre su questo punto, non ho in questo caso necessità di cambiare il gripper, la pinza per andare a prendere oggetti diversi, ma è il gripper che si adatta alla fuori del pezzo, come con un misto tra parte meccanica, cioè vedete c'è un parallelogrammo articolato che si inclina per accogliere pezzi tondi, o prismatici. Qui vediamo già anche un mixtra, una mano di presa che si adatta a diversi tipi di lavoro nella stessa applicazione, in questo caso spinge e verifica che gli switchi del joystick funzionano tutti correttamente, ma poi prende il joystick con una presa totalmente diversa e va anche ad attestare i pulsanti sul joystick. E quindi questo vi dimostra bene quanto sia flessibile il sistema e quanto possa reagire a diverse tipologie di prodotti da analizzare. così come l'utilizzo di software che permette di manipolare pezzi e andare a ricercare un target di inserimento anche se il particolare può cambiare il posizionamento. Come? Sfruttando la forza, lo vedete da questo giugno. Si sta avvicinando un riduttore, metto una variazione, cioè sposto l'ingranaggio, il robot non ha bisogno artificiale, in realtà sfrutta la forza perché vedete tocca l'ingranaggio, sente che non sta penetrando, fa dei leggeri spostamenti fino a quando raggiungi l'obiettivo di poter inserirlo. Questo algoritmo è un algoritmo che ha una certa complessità, così come altri algoritmi che spuntano la forza o la ricerca a obiettivo. Come si fa per rendere disponibili facilmente l'operatore? Tramite dei programmi di genodo su PC in cui si incapsula la complessità, si creano dei macro blocchi e si miscono i macro blocchi per creare applicazioni un po' più complicate. Lo vedete qua, c'è la possibilità di configurarlo con Game Wizard, quindi si associa il robot e il gripper, c'è un ambiente di simulazione e anche questa è un'eccessità del piano Industria 4.0 e tramite delle istruzioni guidate c'è la possibilità di utilizzare delle funzioni più o meno complicate per fare le applicazioni che avete visto prima. Questi sono i blocchi funzionali e grazie ai blocchi funzionali posso anche fare sostanzialmente familiarità con quel tipo di capsulamento, cioè posso prendere pezzi di programma e andare a inserire in un pezzo un po' più ad alto livello. Questo mi consente anche che chi non ha particolari skill di programmazione se non è trascinato dei macro blocchi posso fare le applicazioni anche più complicate. Un altro concetto è quello del fatto di avere un oggetto che si muove in un'azienda senza andargli a conglomare le traiettorie di movimento. Quindi si vede qui avanti, in questo caso il robot si muove ma decide lui la traiettoria da seguire sa solo dove arrivare e dove deve partire e grazie agli aggoliti interni riesce a crearsi al volo delle macchie, delle traiettorie per fare i punti di istruzioni. Connettendo le varie tipologie di robot, a volte si crea una complicazione è una macchina, una macchina in cui il robot viene il pezzo, immagini qualche pezzo fa un po' un po' l'amora con la filter robot e quindi la operazione, quindi diamo un po' il pezzo e non riporti nella parte di ragazzina. Quello dei pezzi si spostano con il telefonino, poi ce ne soppeggiiamo, che sono arrivati in via le macchine. E possono anche lavorare a clienti delle carceri. Potremmo fare la parola che qualcosa li interroppa e in più possiamo garantire un po' il tempo. Ed ecco qua il passo successivo. Il fatto che se il pezzo che devo prendere ha all'interno il dato, se io in questo caso sul paletto che trasporta il pezzo, ho un sensore che mi comunica oggi ogni istruzione per cui io so come puntare questo particolare, è lui che dice al robot quale programma dovrà utilizzare. E quindi il robot si adatta al pezzo che ti sta arrivando. Ecco qua. Oppure utilizzare il robot come sensore. Cioè, prendendo questi accessori che vi ho detto prima, sia sensori di forza sia pinze, ho la possibilità di capire con la pinza quanto è grosso l'oggetto, con la pinza quanto sto premendo. e con il sensore di forza, che forza sto facendo nell'assemblaggio o nella presa del pezzo. Questi dati possono essere immagazzinati e poi, a posteriori, analizzati. Come per esempio in questo caso, se con questo software ho la possibilità di diagrammare le forze di si tornano a generare per il contatto in questo caso con una studio. Fare dei filtri e a capire che cosa sta succedendo durante il processo lavorativo. l'esportazione di grossi dati di ACSP e il contatto. L'ultima parte, poi lascio la parola in cantica, è il fatto di utilizzare il dato per fare in modo che il robot apprenda il lavoro che deve essere fatto. cioè che impari durante il lavoro. Forse però, non lo puoi spiegare più. Grazie. Grazie Grazie